Riparte l'iniziativa Adotta una Iuola, che si svolgerà giorno 23 aprile nel comune Etneo di Sant'Alfio. Saranno coinvolte le scuole materne, elementari e medie, come ogni anno da quando si è insediata l'amministrazione Nicotra, gli alunni degli istituti scolastici sono coinvolti in questa manifestazione. Sfilando per le vie del centro, i giovani studenti porteranno alla villa comunale piante e fiori, qui verranno piantati. Un modo per sensibilizzare al tema della natura, spiega l'assessore all'ambiente, Salvatore Torna Bene. Durante l'iniziativa verranno organizzate anche altre manifestazioni, come la mostra di pittura, che verrà allestita sempre con l'obiettivo di abituare le nuove generazioni al rispetto della natura e soprattutto avvicinare i bambini ad avere cura per le cose in comune. Ogni anno, ci dice ancora l'assessore, registriamo grande entusiasmo e partecipazione da parte degli alunni. Un'iniziativa semplice che però dà il senso della comunità.